Oggi riprenderemo ancora i diodi per vedere qualche esempio pratico di utilizzo sul campo per semplici circuiti o semplici soluzioni da applicare ai vostri schemi elettrici. Iniziamo subito. Vediamo oggi qualche altro utilizzo dei diodi in circuiti pratici. I diodi vengono principalmente utilizzati per il fatto che a seconda di come vengono applicate le tensioni o le correnti possono comportarsi da interruttore aperto oppure chiuso. Un'applicazione tipica la trovate all'ingresso di un circuito che viene alimentato troverete spesso un diodo messo in questo modo quindi questi sono i morsetti di alimentazione avete poi a valle il vostro circuito, la vostra scheda lo indico con una R ipotizzando un carico resistivo se voi andate ad applicare qua una batteria con la tensione orientata correttamente in modo concorde con il diodo non succede nulla e quindi la corrente fluirà dentro il circuito tenete presente solo che il diodo si ruberà una fetta della tensione quindi se voi qui applicate 12 volt questo si prende circa 0,5 quindi qui troverete 11,5 volt però questo protegge nel caso di inversione di polarità quindi se la batteria viene collegata al contrario con il positivo sul negativo e viceversa la corrente non fluirà perché il diodo si comporta come circuito aperto e blocca la circolazione della corrente spesso invece che un diodo normale viene messo un diodo Schottky che ha una caduta di tensione di 0,1 volt circa ovviamente i diodi vanno dimensionati tenendo conto della corrente diretta che può circolare e che viene assorbita dal circuito spesso si trovano anche protezioni di strumenti di misura immaginate un voltmetro o un amperometro questa è la parte positiva questa è quella negativa se voi applicate una tensione nel modo corretto la corrente entra nello strumento e fa muovere la lancetta se voi per sbaglio andate a mettere al contrario la batteria accade che la lancetta picchia in modo violento nel fondo scala e rischiate di rovinarlo per questo si può mettere un diodo in questo modo così che se collegate correttamente la tensione è come se non ci fosse mentre applicando una tensione inversa fa sì che lo strumento non si rovini facendo passare la corrente nel diodo e non nello strumento un altro utilizzo frequente è quello sui relais utilizzando Arduino già lo avrete incontrato quindi questo è il simbolo di un relais voi sapete che spesso si mette il diodo in questo modo per eliminare quelli che chiamano i voltage spike prodotti dal relè nel momento in cui questo viene disalimentato quindi c'è una certa energia emagazzinata dalla bobina nel momento in cui viene staccato il relè quindi non viene più alimentato questa bobina deve scaricarsi lo fa attraverso il diodo in questo modo non va a danneggiare il circuito che pilota il sistema sapendo che i diodi possono comportarsi come circuito aperto e chiuso a seconda delle condizioni possiamo utilizzarli per andare a collegare un alimentatore e una batteria e non farla andare in conflitto abbiamo un alimentatore power supply che va a 220 dall'altra parte ho il mio circuito che viene alimentato immaginiamo che questo alimentatore sia 12 volt e abbiamo anche una batteria vogliamo collegare il tutto in modo che possa intervenire la batteria nel momento in cui scollego l'alimentatore allora questo esce a 12 volt quindi andiamo a mettere un diodo e portiamo l'alimentazione al circuito questo qui lo chiamiamo D1 ovviamente abbiamo il ground saranno tutti in comune poi abbiamo la batteria immaginiamo da 9 volt leggermente inferiore andiamo a collegare anche la batteria tramite un diodo e il ground è sempre comune quando l'alimentatore è acceso abbiamo che la corrente scorre nel circuito il diodo D1 è polarizzato quindi attivo ovviamente non circola sul diodo D2 perché questo qua è polarizzato inversamente ed entra nel circuito alimentandolo quindi qui avremo 11,5 volt perché il diodo se ne prende 0,5 perché D2 non interviene in questo punto e nel punto A abbiamo 11,5 volt nel punto B visto che è collegata una batteria da 9 volt abbiamo 9 volt quindi riportiamo qui di fianco il diodo D2 qui abbiamo 11,5 qui abbiamo 9 volt quindi la differenza tra i due è di 2,5 volt che sono applicati in modo contrario quindi questo qui è polarizzato in modo inverso quindi è come se fosse aperto e non interviene e in questo modo evita anche che la corrente che proviene dall'alimentatore entri sulla batteria nel momento in cui si scollega l'alimentazione abbiamo che quindi da questa parte non arriva più nulla e interviene quindi la batteria quindi la batteria che fornisce corrente a circuito e il diodo D1 evita che la corrente della batteria fluisca all'interno dell'alimentatore vediamo ancora un ultimo esempio quindi abbiamo una resistenza R e poi una coppia di diodi diodo messo così con un trimmerino e dall'altra parte un po' più avanti in parallelo mettiamo un altro diodo messo così con un secondo trimmer quindi questo è un circuito che potrebbe interessare chi si occupa di audio o elaborazione di suoni è un wave clipper serve per tagliare le forme d'onda applichiamo il segnale di ingresso potrebbe essere per esempio un'onda sinusoidale in uscita avremo un segnale tosato a seconda di come impostiamo i due trimmer il segnale in uscita verrà tagliato a due livelli anche differenti a seconda appunto delle impostazioni questo trimmer lo possiamo regolare in modo che prenda una resistenza che vada a zero a un valore massimo questa R serve nel caso in cui questo trimmer è regolato a zero per evitare che tutta la corrente vada a finire sul diodo quindi è un limitatore di corrente lo potete calcolare lo lascio voi come esercizio immaginando di avere un carico che non assorbe nulla per semplificare il tutto immaginate di avere la resistenza impostata a zero e calcolate in modo che ci sia una corrente che sia non troppo elevata magari qualche decina di miliampere o non di più quindi vi trovate in una situazione del genere con R qui semplicemente il diodo la resistenza qua che è impostata a zero per il trimmer e qui applicate la tensione che è il valore massimo della tensione che applicherete qua per esempio non sono 10 volti in questo modo potete calcolare questa R poi a seconda di come modificate questi trimmer potete variare l'altezza del clipping per oggi è tutto con i diodi abbiamo quasi finito nei prossimi video vedremo solo due semplici esercizi poi passeremo ai diodi zener e infine ai transistor in modo da poter avere più frecce nella nostra faretta e poter realizzare cose più complesse se fossero dubbi o domande lasciatevi un commento vi risponderò appena possibile vi ringrazio per la pazienza e la fiducia e ci vediamo domani ciao